Clou ti può portare problemi alle mani, Armando Cab, guarda, puoi prendere un pad, va? Quando giocavo in Clou, devi giocare con il pad così, in questo modo, tu hai sempre il tendine in tensione nella parte bassa. A me, per esempio, è venuta una cisti tendinea qui, alla base dell'indice, e mi sarei dovuto operare. Mi sarei dovuto operare, in verità l'ho fatto esplodere, varie volte, ora non mi fa più male, non mi dà più fastidio. Prima mi dava molto fastidio, cioè nel senso, se prendevo una borsa o qualcosa, era come se mi dessero una coltellata all'interno del dito. Però sì, non serve per... cioè, se non hai uno scaf, o non hai la possibilità di comprarlo, giocare in Clou. Questo è il mio consiglio. Cos'è Clou? È la presa del joystick, come impugni il joystick. Esiste la Clou, poi esiste la Super Clou, che è questa, e si spara con l'anulare. O Octopus, chiamata anche. L'account di Ciccio? No, il mio account, ragazzi. Ah, oh, che sa fa, Stellone? Che sto fognendo? Sto mangiando. Voglio giocare? Dai. Ma, una domanda, quante persone sarebbero per partire una privata su Warzone? Minime? Sì. Mi pare una sessantina in squad. In santa? In squad, sì, una sessantina, se no, tipo in solo, mi pare che servono 30, una cosa del genere. Minchia. Perché volevo provare una, volevo provare un secondo la cosa che aveva fatto Regrent con il pad, per curiosità, perché l'ho solo vista, quindi ho detto a sto punto lo provo, no? 24. Vabbè, quei ragazzi, non ci stanno i reggimenti vecchi dei... Sì, sì, se qualcuno ci vuole venire a dare una mano, giusto per provarlo. Io quanto a me la prossima settimana mi faccio una full giornata da pad? Ma io giusto per provarla. Aspettate, ho il tuo padre. Ah. Ma posso chiederti una cosa? Dimmi. Perché questo canto di nickname? Boh, così per sport è pieno di gente che c'è il mio nickname, citta. Allora mi metto CiccioGamer io per cambiare. Ci stanno troppi power in giro, no? CiccioGamer non ce n'è nessuno. Poi tra sei mesi cambierò, chiederò a qualche altro content creator italiano, io dirò posso mettere il tuo nickname? Via, io ho fatto così, ho chiesto a Ciccio, ho fatto senti Ciccio, posso fare CiccioGamer ma certo, zi, fai come cazzo ti pare mi ha fatto, va bene? Non c'è già che aveva words, no? No, non c'è, no, ma lui si chiama Pistrelo. Prossimo nickname, Nanny Twitch o Dario Moccia. Mario Doccia mi potrei chiamare. Servono 23 persone per stare in una lobby in solo. Chi è Axel? Ciao. Ti ho invitato, curvo, eh? Imposta pad nei setting generali come periferica? Ragazzi, mi servirebbe una mano per un test. Bella zio. Bella, Stelloni, come state? Bella, bella, che ti fa? Devo fare un test, ci possiamo beccare tutti ai classici hangar dove si lenda e roba varia? Non provo, non provo. Allora ci becchiamo là, allora. Facciamolo. Se volete vedete via la streaming camera, sì, però qualcosa così, esporto. Hangar power ci usa come cavie. Esattamente ragazzi, devi parlare bene i cittadini. Che bello, stai capito? Siamo partiti, stiamo facendo solo una privata per testare una cosa. Finite qua nell'hangar 3, regà, un secondo. Ho il soldato in arrivo. Ho la sensibilità. Ah, ma no, mi mi resti messi così. No, ma c'è quello che devo tenere premuto, vabbè. Ti chiami? Stai scherzando? Se muove da sola. A me serve solo una persona davanti a me, però. Sono questo qua che ho l'arma. Che tu la rozzo da antia me? Sì. Muoviti a destra o sinistra. Eh, si devono levare le persone dietro. No no frate non c'entra un cazzo Mi serve che si levano le persone da intorno Trappa gente Eh si se si levano solo Eh beh il secondo è stato guardando la live sicuro Fermo là Io non tocco l'analogico della mira Tocco il sinistro Eh c'è persone dietro più che altro Se devono leva le persone dietro Ok 4 persone dietro Voglio provarlo senza toccare l'analogico Via via Che è quello che ho sta azzerla Scusa che cazzo C'è uno dietro fermo più che altro Se quello lì si leva Vabbè così Va bene Ok curva Muori di destra a sinistra Non sto toccando l'analogico Si muove da solo Falta Da te ma si muove da solo No come ricollega il controller Perché si muove da solo No Joe Fai vedere che stai usando il pad Si può soltare Stia sotto il piede Curva dinamica fa di più? Aspetta un secondo No se sono curioso Io non sto qua per dire Che è sbagliato Roba varia Curva dinamica fa di più Vai curva No curva dinamica non fa di più Un porco due Peggio ancora Stai muovendo E dai io ti sto sempre seguendo Davvero? Io sto toccando Non aprivi dal streaming No zia Io sballo Ma è fighissimo Sembra che tu sei fermo Dalla mia visuale Aspetta un attimo Sto prendendo Qualcuno ha una stun Chiede da qualcuno Se va a cercare delle stun in giro Voi tutti cercate le stun Qualcuno può cercare delle stun Proviamo con le stun Frate ma è fuori di testa Senza mirare Sei tu l'Azrel ghost Axel Axel vai là muoviti Ti seguo pure da qua Ma è fighissimo Pure qua? Sì sì Madonna Ma cosa è che comunque 220 pop Sa bassi il pop E tra ancora di più Con 110 E tipo sbroccato Eh sono una Mesa bassi il pop E non c'è 10 Provo Dici Si prova Qua è molto scoperto Adesso prende Tipo fa tutto Muoviti Allora però Con la standard è meglio Io usavo la standard Alla con la standard è meglio Però Alla se ti Però Se sei fermo Non funziona proprio Cioè se io sono fermo E non tocco niente Mi si muove proprio appena appena Se sono fermo Se invece mi muovo Avanti Se basta che ti muovi pure destra sinistra Stai guardando la prima Immagina cioè tu vai in mira Comincia a camminare davanti Curva reazione di mira standard Aspetta Dov'è curva reazione di mira Oh mio dio ma così è peggio ancora Ancora più forte O porco tu ma mi ha girato la visuale da sola Mentre correvo Mi hai cambiato Ah frate è ancora più forte Ehm Nessuna una stunna Che mi può stunnare Maggio Quella roba Cioè non l'hai fatta tu con la No io non sto muovendo L'analogico Stavo muovendo da solo E' assurdo Se sono fermo Rimani fermo lì Curva Allora Non sto toccando gli analogici Muovi di Axel destra sinistra Non si muove Fermo rimettiti davanti a me Muoviti E' assurdo E' assurdo E' assurdo E' assurdo E' assurdo E' assurdo Vieni qua che lei c'è troppo casino Axel sono vicino al camion Muoviti davanti a me Ora Vieni vicino a me Facendo questa cosa Guarda cercare stun Arriva Eh va Di più Puoi fare destra sinistra Di più Aspetta C'è l'ang che c'ha L'ang scendo dal camion Scendo dal camion Sto vedendo la streaming Ma fa paura Ma fra te ma è assurdo Se sei fermo Non si muove proprio C'è regà Joystick appoggiato Non succede niente Arrivalai Ok Guarda Io sono giocato Tu invece fai In movimento Il movimento E' assurda Comunque Può dire la gravità E' lui che non vedete Che lo segui con la mira In che senso E' vero Io non vedo che tu muovi A visuale Io ti vedo Fese a mobile Esatto Tu non vedi che io mi giro No Tu sei immobile Mi stai ancora traccando No ora non mi sto muovendo Se mi muovo Ma pure senza mira Wow What the fuck Si è giro Della visuale No Sembra che non ti muovi Fa paura C'è Ci credo che la gente Mi ammazzano di spalle Ma non questo C'è Ed è pauroso Ma che è sta merda Pivola scivola Scivola pure Aspetta mi stunno io Vai Scivola pure ora Aspetta Prova Prova Della Ma te ma sei un laser Passare la paura Da quando stavi sparando Mi addossare le persone Spari tutto sotto Forse traccando dritto Ma che è Ma è per quello che ti dico Ma saltando è devastante Ma è assurdo Io non ho mai giocato Con 10 di sensibilità Vabbè C'è una puttracchima Che è sta roba Sto intendo Non mai giocare La lancibione è troppo alta Per me Sì ma Sì ma Sì ma Non stai facendo Basta che ti muovi Non devi rimanere fermo Cioè se tu non rimani fermo È assurdo Madonna Vabbè Basta così Anzi Grazie mille ai ragazzi Solo per vederlo Per vedere se Magari quello che ha fatto Ragrant Era una No Mamma mia Mamma mia Che roba È letteralmente Sgravo Ma sarebbe da passare A pad Grazie mille comunque Ragazzi Che ci hanno dato una mano Mazza è roba Però con Senza Senza i massi Sta un po' a giocare Cioè devo dire No no ma è ovvio È ingiocabile Senza i massi Però la differenza tra Soprattutto da stunato Perché È la stun Che è sbloccata Cioè Hai visto come ti muovi Con la stun Sì Fallo con mouse e tastiera Vabbè Io sono solo per provarlo Perché tutti rompevano No questa cosa L'ho provato Perché dicevano Che era tutto falso Ho detto Beh Grazie a tutti